ci faccio vedere qua così, noi siamo orgogliosi ora che puoi vedere perchè io a casa con una sandatrice così a ferro battito non lo mai faccio, noi vorrei vedere come si fa oh c'è altra buba un po' . vale, non lo so, ma robo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.